Io ho sperato fino all'ultimo che mio padre fosse vivo. Una speranza spazzata via e un colpo di scena inatteso. Qui a Castelnuovo di sotto nel Reggiano è stato nascosso un segreto per nove lunghi anni. Alle spalle di questa casa colonica c'erano i resti di un uomo, verosimilmente Gaetano in Pellizzeri, arrivato da Alcamo e scomparso a Bergamo, ma per qualche strana ragione, finito sotto la terra di questo giardino. Ma riavvolgiamo un attimo il nastro di questo lungo mistero. Gaetano in Pellizzeri all'epoca della scomparsa aveva 47 anni, un passato da agente di commercio e un matrimonio alle spalle con due figlie a cui era molto legato. Da tempo l'uomo versava in grosse difficoltà economiche, dopo che aveva tentato senza successo la strada imprenditoriale, ma ultimamente stava cercando di rialzarsi dal fallimento, collaborando con alcuni imprenditori siciliani alla vendita di autovetture usate e importate dalla Spagna. Ed è così che la mattina del 10 febbraio 2014 Gaetano in Pellizzeri si imbarcò dall'aeroporto di Trapani su un volo diretto ad Orio al Serio e qualche ora dopo avrebbe avuto un appuntamento di lavoro presso un grosso concessionario di Bergamo, dinanzi al quale non si presenterà mai. L'ultimo contatto da cella è sempre quella giornata, sparisce con l'ultimo contatto di cella proprio a Bergamo. La sera? Sì, durante il pomeriggio. Poi da lì, come va fino a Reggio Emilia, per noi è un mistero. Per quale motivo Impellizzeri è stato ucciso? E perché il suo corpo nascosto a circa tre ore e mezza di macchina da Bergamo? Tra le parti si è più credibile è quello che o probabilmente ha visto qualcosa che non doveva vedere, o che, tenendo conto che veniva considerato un soggetto comunque buono, probabilmente si sarà trovato in maniera inconsapevole in determinati giri criminali. Oggi in questa casa ci vive una famiglia che era ignara di tutto. Ma voi siete abituati? Io sì, sì, sono abituati. So che abita qua al 2015, no? Sapere che dal 2009 c'era un catapere qua dietro è sconf... cioè... No, non è una cosa che fa piacere. Chi ha ucciso e occultato il corpo di Gaetano Impellizzeri sapeva bene che qui non sarebbe stato visto da nessuno. C'è soltanto questo caseificio? Andiamo a chiedere se qualcuno ha visto qualcosa. Ha mai avuto contatti, relazioni, con chi abitava in quella casa nove anni fa? No, non ci siamo mai per macchina. Era stata vuota, secondo me, la casa. Era stata vuota? Secondo me per un pezzo sì. Parliamo anche con l'amministratore delegato dell'azienda di fronte. Addirittura c'è stato uno, ma tempi tempi indietro, che era il nostro dipendente, perciò ce ne sono stati diversi. Poi dopo era successo lì il casino, perché lì, anni e anni indietro, il figlio aveva ammazzato la mamma. Ah, in quella casa? Convolgente comunque? È abbastanza.